Buonasera a tutti, oggi ho il piacere di avere in studio con me Luciana Turina, cantante, attrice, presentatrice e anche ora direttore artistico di una manifestazione che si svolge a Palermo e precisamente al Teatro Ranchibile intitolata Ritornano gli anni 60. Ecco, siamo qui per parlare di questa manifestazione, ma non solo della manifestazione, approfittiamo della presenza di Luciana per chiederle qualcosa della sua lunga vita artistica, diciamo lei è conosciutissima e ora abbiamo il piacere di averla qui a Palermo perché abita a Palermo. Intanto grazie Luciana per essere qui con noi. Prego, era il mio dovere nei tuoi confronti. Dovevo venire prima. Dovevo venire prima, ma come dite voi, tante camorrie me l'hanno impedito, poi io dato che sono anziana ormai, sono anziana. E no, ho fatto 50 anni a luglio che sono nel professionista, ecco, nello spettacolo. E prima mi dovevo andare insomma un po' a cercare di ringiovanire quello che si può fare con un trucatore. E allora insomma mettere in ordine e con gli orari che mi avevi dato tu per registrare qui, insomma, è stato possibile oggi. E ti ringrazio. E quindi siamo contenti. E ti ringrazio. Come ti dicevo prima, hai qui la televisione a disposizione, la telecamera a disposizione. Grazie Filippo. Puoi dire intanto tutto per quello che riguarda la manifestazione. Tu fammi le domande e io ti lascio. Poi se è quello che mi viene di gente. No, ma mi piace appunto essere come in un salotto, questo è lo spirito della trasmissione di chiacchierare del Pio del Meno. Intanto vedo che c'hai... Sì, mi sono portata gli appunti per dopo. Comunque, cominciamo. Cosa... Dico, intanto questa manifestazione è al teatro ranchibile, ritornano gli anni Sessanta. Sì, dunque, un'associazione di giovani palermitani, ammiratori, diciamo, di questo genere degli anni Sessanta, soprattutto i padri di questi ragazzi, mi hanno affidato la direzione artistica. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, poi non l'hanno fatta più. Ne parliamo da tanto tempo. Insomma, ho cominciato a organizzare il tutto. Siamo a novembre, no? Abbiamo cominciato un bel po' di mesi fa. Intanto diciamo che questa manifestazione non si esaurisce in un giorno soltanto. No, 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 sono sei appuntamenti. Sono sei appuntamenti, sì. Il primo è il 15, anche io mi devo guardare, è il 15 di novembre alle ore 18 con i Camaleonti. E l'ultimo verrà Bobby Solo. No, dico io, ti aiuto io, ne hai due. Poi c'è Gianni Nazaro, Dino, Bobby Solo, Luciana Turina stessa, Vilma Goiz. Intanto diciamo che sono tutte persone che tu conosci personalmente, artisti con i quali hai lavorato. Allora, i Camaleonti uno è Mantovano, Tonino, che sono rimasti della vecchia squadra dei Camaleonti, sono rimasti in due degli anziani. Ho chiamato Tonino, poi viene con l'impresario, come ho chiamato Gianni a casa mi ha risposto. Bobby lo stesso, che mi ha fatto anche una canzone di un Sanremo che poi non si è fatto più, che fa parte del mio repertorio. Io ho chiamato tutti a casa, anche altra gente, perché questa cosa credo che continuerà, me lo auguro. Non è che si esaurisce in questi sei appuntamenti, Filippo. Dovrà continuare anche gli anni. Dovrà continuare, sì, c'è la chiesta Messina, c'è la chiesta Massala, c'è la chiesta ad Agrigento. Quindi tu pensi oltre a questa manifestazione, pensi ad un tour con questi personali? Sì, sì, sì. Una volta uno, una volta l'altro. E questa associazione ne sono entusiasti perché già è un anno fa me ne hanno cominciato a parlare, poi non si è fatto niente. È un'associazione appunto di ragazzi giovani di Palermo che i loro padri dicono perché non facciamo questo, perché non facciamo... Insomma, e siamo in ballo e balliamo. Ho un po' preoccupazione perché la piazza di Palermo è una piazza di difficile. Funziona tutto all'ultimo momento e diciamo, anche ho visto il botteghino, si muove molto bene da questa settimana e insomma ho un po' di timore. Per questo sono venuta anche perché ho bisogno che la gente lo sappia, che la gente lo sappia che se... Poi un'altra cosa che ho riscontrato proprio in chiesa, domenica scorsa, che vado spesso a Ranchibile in chiesa, alla messa, io vado tutte le domeniche tranne che se devo lavorare alla messa. Delle persone interessatissime a venire a vedere questi spettacoli mi ha detto ma è vero che vengono, ma certo che è vero. Io non mi sporco la faccia per dire che vengano questa gente. Vediamo se qualcuno di loro poi può venire con te qui in trasmissione così li presentiamo pure. Ora queste cose le sa più mio marito a che ora vengono, ma senza meno, se mai venite là e qualcosa si fa da là sul posto. Ecco, mi hanno chiesto se è vero che vengono. Questo mi ha fatto pensare della titubanza, diciamo, in loco, della titubanza della paura che non vengono. Perché? Se io mi metto in mezzo per fare questa cosa, per organizzare questa cosa, come direzione artistica, io non prendo in giro nessuno, anche perché ne vale della mia faccia. No, e poi indubbiamente non sanno i rapporti che legano te a questi personaggi nel mondo dello spettacolo. Poi questi personaggi in un determinato periodo della loro vita erano molto, molto famosi. Certo. Io ho lavorato con tutti. Ah, hai lavorato con tutti. Molto di più, molto di più con i Camaleonti, con Bobby Solo, con Dino, ho fatto delle serie, con Nazzaro, ho fatto anche te. Ma tu cantavi canzone tue oppure canzone anche di loro? Ma no, anche... Come avveniva questo canzio? No, no, canzone di loro no. Di Bobby me ne ha composta una che è solo per me, che si chiama Hey Mamà, che fa parte del mio repertorio. Diciamo che io, non so se tu sei documentato su come, diciamo, io come cantante, a parte attrice, a parte... E qua ho degli appunti. Ecco, e a me mi hanno sempre definita la negra bianca, cioè io vengo un po' dal blues. Sì. Ecco. Allora per quegli anni è stato molto difficile imporre, imporre, diciamo, il mio genere musicale. Tu quando hai partecipato a Castrocaro nel 1965 hai presentato Come ti Vorrei. Eh, ma quella è un blues americano. La canzone, non è quella che canta Pueva Zanicchi, la stessa... La cantò due anni prima, ma quello è un blues classico americano, perché io provengo da quella scuola, da quella scuola, da quella... perciò fare... Quindi la reta Franklin italiana. No, mi chiamavano la negra bianca italiana. Io non ti ho portato niente oggi, ma un giorno, se ci vediamo ancora e farò qualche altra trasmissione, ti porto delle cose che mi ha... quando c'era mia mamma mi teneva tutto, io non tengo niente, sono una sciattona. Ma sei un artista. Eh, mi tiene un po' di cose a merito, ma anche lui è un po'... c'è roba dappertutto, come mi definivano i giornali, i giornali di allora e fino... poi ho fatto un po' di tutto, diciamo la scuola americana ce l'ho nel sangue, perché per poter andare avanti e reggere così tanto bisogna insomma saper fare più cose. E diciamo chiaramente, tu hai partecipato al festival di Castro Caro, anzi l'hai vinto, poi partecipa al festival di Sanremo e poi inizia una serie interminabile di partecipazione a dei film, io avevo una trentina, tu mi dici 38 film. Il primo... Il primo fu proprio l'espluat, che non ero proprio brava per niente, perché non l'avevo mai fatto, nel 68, pensa, nel 1968. Io ho 68 anni, torna indietro di quanti anni? Quanti anni sono passati? Parecchio, parecchio. Ecco, e si fece Serafino, che ancora lo danno tantissimo. Più di 40. Sì, più di 40. Più di 40. E lì fu il primo film, dopo dal 70 in poi, ed è venire fino all'ultimo che ho fatto nel 2010 con Aldo Giovanni e Giacomo, Il Cosmo sul Comò, lo abbiamo girato tutto a Milano e ne ho fatti il 38. Quindi tu hai conosciuto i grandi, hai conosciuto, dicevi, Germi, ma pure Celentano. Ma io ero già nel clan come organizzazione musicale, ero la Cgd come casa discografica, ma ero nell'organizzazione del clan Celentano come organizzazione di spettacoli. Perché allora i primi anni, diciamo, dal 65 al 69 abitato Milano, da fine 69 al 2010 sono stata a Roma, perché facendo i film e facendo tanto teatro, insomma, non mi sono mossa più. Diciamo che sono da cinque... Ma appunto poi tu cambi, diciamo, attività e poi parteci pure a numerose trasmissioni televisive. Sì, ho fatto tanta televisione, tanto varietà. Orlando Buzanca, Ivana Monti, questi li ricordiamo. Orlando Buzanca abbiamo fatto il settimo anno che ancora hanno in Tec e Te, danno l'ispezione di cose, erano trasmissioni di varietà, è molto difficile. Ma Ivana Monti è bravissima. Sì, è una bravissima attrice. E Lando, lui prima lo faceva ciccino e ciccino con degli a scale, quell'anno vogliono me, gli autori vogliono me, nel 1978, penso a quella trasmissione, ancora danno gli spezzoni di queste cose che abbiamo fatto allora. Invece, 82, 83, 84, 85, che siamo partiti per fare sei o sette puntate, con Franco Franco e Cicci in Grazia abbiamo fatto Patatrack. Patatrack con Gianni Boncompagni. Con la regia di Gianni Boncompagni. Allora, tu hai conosciuto Franco Franco e Cicci in Grazia. Sì, ci ho lavorato per tanto tempo. No, non parliamo di loro così, aumentiamo loro. Guai, 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 io per loro, guai. Siamo stati, a parte che eravamo anche vicini di casa, perché io a Roma ho abitato a San Giovanni in Laterano e lui era un po' più su. Franco Franco, mentre Cicci in Grazia abitava a Montano. No, abita vicino a Pietralatta, sulla Tiburtina. C'è ancora la moglie, che conosco la moglie di... perché non è molto Ciccio che è morto, sarà due o tre anni. Io ero fuori in tournée, due o tre anni, quattro, e ho chiamato il figlio. Ho conosciuto Gian Piero, che lo portava lì da ragazzino, che diceva, come io d'altronde da piccola, già a tre o quattro anni, cantavo, dicevo che volevo fare cantante, Gian Piero già diceva che voleva fare... Anche lui è un bravissimo attore. Poi una persona assomiglia molto al carattere del padre, Gian Piero. Si vede che è un buono, si vede. Però dico, che idea ti sei fatta appunto di Franco Franco e Cicci in Grazia? Ti dico che ci facevamo un mazzetante, dicono a Napoli. Io entravo, andavo in sala d'incisione alla mattina alle nove da Boncompagni, che è vicino alla RAI. Si entrava al teatro... io dovevo firmare il cartellino alle undici, perciò dovevo già aver finito tutto, le registrazioni musicali, anche alle undici o anche prima, al Teatro delle Vittorie, perché sai tutti quelle trasmissioni al Teatro delle Vittorie. e non finivamo mai prima di mezzanotte, perché negli ultimi momenti si chiedevano tre ore per cose tecnici. Più di tanto non potevano fare. Perciò io, per essere lì alle nove, non un quarto, mi dovevo alzare. Tu ti rendi conto? Si faceva, guarda, qualcosa come... 15, 16, 17... Ma che compagni di lavoro erano? Allora c'erano i compagni di lavoro, i fissi erano loro. No, dico loro, i compagni di lavoro, perché Sciccio lo sappiamo, era uno molto serio, molto... Sì, signore, signore, lui signore. Franco Franco... Franchi no, non posso dire cosa mi diceva, anche perché allora io, il siciliano, non avevo il marito siciliano allora, perché io sono felicemente divorziata dal padre di mia figlia, una figlia di 34 anni che vive a Mantova, me l'ha cresciuta mia zia perché... Tu sei emiliana? Sono di Mantova, Mantova fa parte della Lombardia, ma il dialetto è più vicino all'emiliano che... Sono di Mantova e... Franchi era... è una sagoma, come lo vedevi era. Era, quindi manteneva il personaggio anche... Manteneva... e poi un... cioè a me mi hanno fregato forse nella prima puntata, lui, perché se non gli piaceva una cosa... No, mi faceva gli scherzi, cosa che Ciccio non avrebbe mai fatto, non gli piaceva lo scherzo, io studiavo come una pazza, arrivavo là, non mi piace, strappava tutte cose, o in una puntata, andava a braccio, ah sì, andiamo a braccio, ci penso io, diciamo che per me... Io ero fissa, c'erano degli ospiti che venivano, che ne so, è venuto Mero, è venuto Banfi, è venuto la Silvana Pampanini, ora non mi ricordo, sono passati tanti anni, diciamo che è stata una grande scuola per me lavorare con Franchi e Ingrassini. Senti, per quanto riguarda i film, tu hai fatto pure film erotici in sostanza, dagli appunti o perlomeno... No, io facevo, sì, erano film erotici con Barbara Boucher, però io facevo sempre la Madre Badessa. Sì, ci fu quel periodo, però fu un grande, cioè un periodo fortunato per questo tipo di film. Ah sì, se ne facevano 4-5 all'anno. Quindi fu un momento molto... Sì, gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta, sì, mi ricordo. Quindi rimane anche nella filmografia, dagli appunti che io ho, e dico, questo incontro con Germi, che è quello che mi incuriosisce di più, perché Germi ha questa figura di uomo forte proprio. Io abitavo ancora a Milano, perché ti ho detto, vincendo il festival, la casa discografica era di Milano, perciò abitavo a Milano, come fu, come non fu, io allora ero sempre sui giornali e tutto, lui mi richiese, mi chiamarono da Roma, la produzione che mi ricordo ancora, che c'è ancora a Viale Carso, la RPA, Viale Carso a Roma, e credevo che mi prendessero in giro, c'erano due, tre aiutoregisti, quello lì mi ricordo Silla Bettini, che era anche un attore, e mi chiamava a sto produzione dicendomi che Germi, il signor Pietro Germi, mi voleva incontrare. E' uno scherzo. Sì, mi chiamarono proprio loro. Non solo, non mi chiamarono, allora non c'erano, non avevo il telefonino nel 67, quando mi chiamarono, perché non lo so, in Italia non c'erano. No, ancora. Non c'erano, no, e mi trovarono a Mantua, sul numero fisso che mio padre era sull'elenco, Luigi Turina, e cercavano da mia mamma che mi cercava dappertutto, che allora non avendo i telefonini non ero recuperabile a tamburo battente come si può essere adesso. Insomma, quando ho visto gli appunti che ha lasciato mio padre, gli appunti che lasciò la mia povera mamma, c'era qualche cosa, telefono a questo numero della produzione e mi risponde questo sillabettini che diceva che mi cercavano da una decina di giorni. E niente, mi hanno dato l'appuntamento, sono partito per Roma, perché mi trovavo a Mantua con il treno via Verona, sono andata a Verona ma ci ha portato mio fratello. Il film poi dove si è girato? Il film si è girato, siamo stati 5-6 mesi in Abruzzo e nelle Marche, siamo stati a Arquata del Tronto, dove fanno l'amatriciana, Amatrice, Arquata del Tronto, Amatrici, Ascoli Piceno, diciamo, tra il Lazio, il Lazio che tocca, diciamo... Il Cialentano come si mostrava. Ma io lo conoscevo già. Un irrequieto. No, no, erano perso. Anche lui era molto, perché aveva già fatto il film, mi pare che fosse super rapida a Milano, però da protagonista, con un regista come Germi, non era... Insomma, questo film ci è voluto 4-5 mesi. Io mi ricordo che Pasqua accadde d'aprile e io ero sulla macchina della produzione da Roma che si partiva per le Marche. E abbiamo finito ad agosto, perché io e Adriano facemmo la serata d'addio del paese dove ci hanno ospitato. Eravamo tutti... Grande feste. Ho cantato io, ha cantato Adriano, ha chiamato i ribelli e tutto il resto. Qual è la canzone a cui sei più legata? Beh, diciamo, quello che ho vinto il festival, perché... Diciamo che allora gli autori, per me, nel 65 non ce n'erano. Te la ricordo? Perché non la accenni? È difficile, senza... No, così... Come ti vorrei, come ti vorrei, 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 come ti vorrei... E una... Poi ho fatto... E la voce c'è sempre, eh? Beh, beh, sì. Anche se adesso mi devo allenare, io vado a febbraio, mi devo allenare un po' perché diciamo che è un po' che non canto. Eh, ma ci vuole sempre l'allenamento, è chiaro. Sì, adesso è un po' che non... Mi devo allenare a casa, ecco perché mi sono fatta mettervi l'ultima, perché io sono molto... Molto rompi sul lavoro. Ma diciamo, tu sei dal 27 al 28 febbraio, ecco, quindi il tempo c'è. Ce l'ho, adesso facciamo partire questo festival, io mi auguro che la tua trasmissione, che qualche volta ti vedo, che è molto carina e dai dei dettagli molto giusti sulle cose di cui parli. Ma io faccio parlare, quindi se tu vuoi dire altre cose le puoi dire tranquillamente. No, no, non c'è bisogno. Io penso che... Io mi aspetto... Vediamo se riusciamo poi a inquadrare pure il... Giuseppe, vediamo se riusciamo a inquadrare... No, parla, parla, ti ho interrotto. No, voglio solo dire alle persone che interessano vedere, diciamo, questo sestetto degli anni Sessanta... Siamo a Giuseppe Rizzo che ora inquadra in primo piano il volantino, il manifesto, ecco sì. Io vi aspetto in molte. Siamo... Il botteghino è al teatro ranchibile via Libertà 199, posso dare il telefono? Sì, certo. Siamo questi artisti, perché questa non è una fregatura come mi hanno fermato in chiesa per dire ma vengono questi artisti. Gli artisti verranno nelle date dove c'è scritto sui manifesti e anche se no non verrei a pubblicizzare. Io vi aspetto in molti perché diciamo che sono gli anni Sessanta, tornano gli anni Sessanta, l'ho voluto intitolare... Tornano gli anni Sessanta, sono dei pezzi che non tutti c'è la copertura, perché tanta gente è morta. Per esempio ho lavorato tanto con Il Mondo, che non c'è più. Jimmy Fontana. Ho lavorato tanto con Little Tony, che non c'è più, ma io ho già contattato Fausto Leali, ho già contattato Rietta Berti per le prossime cose che si faranno. Piano piano li vedremo tutti quelli che ancora cantano. Perciò vi aspetto... L'esperienza televisiva, abbiamo parlato di quelle diciamo un pochettino meno recenti, però tu qualche tempo fa pure sei stata in televisione con Michele Cucuzza. Sì, l'ho fatto, ho fatto tanta televisione, la vita in diretta con Michele Cucuzza. Diciamo che a giugno e luglio ho fatto due, uno mattina, che mi hanno voluto lì, perché diciamo gli autori mi... Insomma tu in televisione sei di casa. Sì, abbastanza, però diciamo da quando sto, che abito da 4-5 anni a Palermo... Diventa più difficile. Diventa più difficile, anche la mia disponibilità, sono un po' cambiata. Perché, signori miei, signori, quando si arriva a 68 anni come me, si cambia un po', io ho fatto... Cioè cambia il ritmo, cambiano i tempi. Poi sono diventata più pigra, poi c'ho tante come dite voi... Ma sai cos'è l'atmosfera, diciamo il clima palermitano. Mi sa di sì. Sì, è il clima... Perché io appena esco da qua o comincio a fare qualcosa, mi ritorna il ritmo di quando avevo 20, 30, 40... No, è il ritmo palermitano perché noi amiamo essere, andare con i piedi di piombo, andare cauti e quindi chi poi respira la nostra aree finisce per assumere pure queste, diciamo, queste caratteristiche. Lo dico tra lo scherzo, però molte volte è vero così. Ma io non sono così di natura, di natura non sono così. Però ti piace stare a Palermo, questo clima così bello, siamo a novembre e c'è gente che ancora va a mare a farsi bagni e non credo che se la possano consentire tutte una cosa del genere. Sì, ci sono i pro e i contro, diciamo che stando a Roma era meglio per me, perché faccio meno teatro, non essendo più sulla piazza di Roma, perché parte... Sì, però recentemente sei stata al Salone Margherita. No, questo è... sì, ho fatto... l'anno scorso sono stata al Salone Margherita. È una cosa importante, è una produzione importante. Sì, sì, è una produzione importante al Salone Margherita. Speriamo di farla vedere. Abbiamo fatto... era un musical quello. Sì, speriamo di farla vedere perché ho visto che ci sono dei filmati e ti devo fare i complimenti perché ho visto che è una tua interpretazione favolosa. e pure tutto il lavoro merita veramente. Grazie, grazie. Abbiamo esaurito il tempo. Ancora abbiamo del tempo. Ecco, io vi aspetto, amici e amiche care, al Teatro Ranchibile via Libertà 199, per chi volesse... siamo là dalle 16 alle 19, siamo al 339377355, che caso strano, questa associazione di giovani palermitani, che sono giovani, tanti, manco c'erano gli anni 60, ma i loro padri, le loro madri, i loro nonni e chi ne ha... Però abbiamo scoperto che ai giovani piacciono le canzoni degli anni 60. Perché questa è un'associazione che mi ha convocato a fare la direzione artistica, che sapevano che abitavo a Palermo da quattro anni, mi hanno convocato per quello che ci puoi pensare tu. Come vedi alcune vecchie canzoni, queste degli anni 60, vengono riproposte. Ora, Alessandra Moroso ha proposto una vecchia canzone, ha avuto un successo... Che canzone è? Io chiamo solo te. Ebbè, quella è Sergio Indrico, io lavoravo, ero al festival con Sergio Indrico, il mio padrino fu Claudio Villa. Ho scoperto che altre sono state lanciate addirittura da Elvis Plesi, sono state canzoni... Sono state cantate? Quella di Pino Donaggio... Tutte quelle di Pino Donaggio le hanno cantate, sia Elvis Plesi e anche... O per il mondo, queste qua sono... Il mondo... Poi ti ricordi il trio? C'era appunto Gianni Meccia. Quattro erano, Gianni Meccia, Fontana... Nico Fidenco... Nico Fidenco e... E il cognato di... E il cognato di quello di... In questo momento... Io che amo solo te. No, io li ho fatti venire io a Palermo in occasione di una manifestazione, ricordo, sono tutti e quattro nel 1987, già avevano formato... Sì, sì, avevano formato il quartiere. Sì, hanno avuto un grandissimo successo, con canzoni meravigliose appunto di quegli... Io l'ultimo spettacolo che ho fatto a Mantua, la mia città, con Jimmy Fontana è stato settembre di cinque anni fa. Venne, venne, venne... Quale secondo te è la canzone italiana più bella? Ma guarda, una canzone che io sono legatissima, quella di Paoli... Sapore di sangue? No, quella di Paoli... Mamma mia, che l'abso... Ma tu di Modugno che mi dici? Intanto ti ricordo... Ah, sì, di Modugno... L'uomo in fracca, per esempio, lo ritengo che sia forse la canzone più bella... Io amo anche quando Modugno compone in napoletano. Sì, sì... Che poi si fa passare per Palermitano e poi non è... Cioè lui... È di Gliese... Lo so, ma lui... Però lo parla benissimo. Sì, il siciliano lo parla benissimo. Lo parla benissimo il siciliano. Ma pure tu stai imparando il siciliano. Chissà se canterai... No, ma con la mia... Tu non conosci dei cantanti siciliani, come Francesco Giunta, tu lo conosci? No. E sarebbe bello se tu lo conoscessi perché ha scritto delle canzoni favolose. Bellissimo. Potere canta... Sì, bellissimo. Me lo presenti tu, Filippo, mi fa piacere. Perché fare una canzone insieme a un siciliano, cioè un siciliano siciliano che scrive bene, sono anche incuriosita per vedere cosa riesco a fare io. Sì, sì, canzoni stupende. Almeno io amo la sua musica. Beh, avevate la Rosa Balestrieri. No, ma lui è... Tanto di cappello... Tanto di cappello... Sì, sì, ma come lui e altre... Ci sono altri cantanti che hanno seguito, diciamo, Rosa Balestrieri, io menziono sempre lui, qualche altra si offende perché non la menziono, ma non è un motivo, diciamo, di discriminazione, anche perché la mia televisione è aperta a tutti, quindi nella mia trasmissione, quando vogliono venire, possono venire tranquillamente e farsi pubblicità. Allora, siamo in conclusione. Ripetiamo, lo dico io, tornano gli anni Sessanta, una manifestazione che si svolge da adesso, al Teatro Arranchibili di Palermo, dal 15 di novembre. L'associazione è di Palermo, sono giovani i palermitani. Luciana Turina è il direttore artistico di questa associazione, i cantanti che partecipano a questa manifestazione sono i Camaleonti, Gianni Nazaro, Dino, Bobbi Solo, Vilma Goic e naturalmente Luciana Turina che si sta allenando per ritornare in perfetta forma per questa sua esibizione. Momento, io ogni volta che viene un artista ci devo essere perché li devo presentare io. E devi cantare qualche canzone che vorrò. La serata mia c'è, ma io la presentazione, l'apertura e tutto, lo devo fare per tutti e sei. Allora, l'appuntamento per tutti è al Teatro Arranchibili dal 15 novembre in poi per questa bellissima manifestazione diretta da Luciana Turina che io ringrazio per questa sua partecipazione. Io ti ringrazio Filippo e ti abbraccio e ringrazio a tutti voi che mi avete vista oggi e ascoltata e anzi una proposta. Chi ha visto questa trasmissione e dovesse venire al teatro come mi auguro, venetemelo a dire che mi fa piacere. Un abbraccio a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie.